Oggi parliamo delle tecniche di upsell e crosssell. Ciao sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di due tecniche così banali ma tanto fondamentali, ovvero l'upsell e crosssell, che non possono assolutamente mancare nella tua strategia di marketing del tuo hotel. Vediamo velocemente di che cosa si tratta, con l'upsell tu vendi al tuo cliente un servizio di categoria superiore rispetto a quello che voleva prenotare, quindi magari ti ha chiamato, ti ha contattato con l'idea di prenotare una camera economy e tu gli vendi alla fine una deluxe con balcone e vista lago, mentre con il crosssell gli vendi dei servizi aggiuntivi, tipo oltre alla camera riesci a vendergli anche il transfer o un mazzo di fiori da far trovare in camera e così via. In questo video vedremo come utilizzare queste tecniche, quando farlo ti fornirò delle idee, però cosa offrire concretamente ai tuoi clienti lo puoi sapere solamente tu perché tu li conosci. E quindi andrai a creare la tua buyer persona, avrai l'idea chiara di quello che è il tuo cliente e saprai cosa offrirgli al momento giusto. Quindi quando puoi usare la tecnica di upsell e crosssell, i momenti sono molteplici, lo puoi fare in fase di prenotazione ad esempio, che sia al telefono, che sia per email, oppure può essere utile un booking engine che ti permetta di far aprire una finestra pop-up, in quale al momento del pagamento ricorda il cliente guarda che per soli top di differenza puoi avere questa camera di categoria superiore. Diciamo che in quel momento il cliente si è già convinto a spendere, ha già deciso di venire nel tuo hotel, e quindi anche il momento giusto per fargli notare che con quella minima differenza al giorno può avere una camera di categoria superiore. Ovvio che se non viene effettuato telefonicamente, ma effettuato tramite sito, dovete avere un copy perfetto. Quindi mi raccomando non basatevi solamente sui metri quadri delle camere, perché le persone non hanno idea di quanto siano 8 metri quadri, soprattutto non gli frega niente a molti. Sì, alcuni vogliono una camera più grande, ma è la vista che magari fare differenze, servizi in più in camera, che davvero ti convincono a spendere quei soldi in più. Oppure li puoi convincere prima del loro arrivo, 3-4 giorni prima puoi inviare loro un'email riepilogativa del loro soggiorno, che male non fa, anche perché molti quando arrivano poi non si ricordano il nome di chi hanno prenotato, dove hanno prenotato. A volte arriva gente in reception che ti fa una piazzata tale perché tu non trovi la loro prenotazione, e magari hanno sbagliato tell o hanno sbagliato data. Quindi fare un reminder non vi costa niente, vi ruberà un pochino di tempo, però in quell'occasione ne potete approfittare per utilizzare tecniche di upsell o crosssell. Quindi il cliente ha bisogno di un transfer, proponilelo. Oppure vuoi proporre di far trovare la sua dolce a metà o una bottiglia di spumante in camera, proponilo. E mostra quali sono i servizi che potrebbe accettare e magari ti dirà sì e avrai avuto un guadagno in più. Ovvio che se hai un hotel che ha un'app personale, in questo caso sarà molto più semplice. Questo però non significa che le email siano obsolete. L'unica cosa è che l'email marketing va fatto con criterio e non a casaccio. Quindi se fatto con criterio funziona, altrimenti se viene fatto tanto per non riuscirete a cavarmi un ragno da un buco. Ovvio che queste tecniche possono essere utilizzate anche durante la fase di check-in o quella del soggiorno. Ma lì significa che alla reception avete delle persone esperte, persone formate, che sanno vendere senza che il cliente se ne accorga. E lì dipende da voi, perché sì, alcuni decidono di prendere il novellino, di pagare poco, non lo affiancano perché di questo deve lavorare subito. E quindi poi vi trovate ad esempio una persona esperta. Sa benissimo che prendete una persona che ha le prime armi, però insegnateli almeno qualche cosa. Non lasciateli lì alla deriva. Anche perché magari senza volerlo indispettiscono il cliente. Sì, è vero che c'è chi nel momento è migliore per vendere dei servizi aggiuntivi o degli upgrade. Ma magari il cliente ti è arrivato nervoso perché ha perso l'aereo, ci sono stati ritardi. Magari non te lo dice, però bisogna vedere anche con che tono risponde e gli atteggiamenti che ha. Ma ci sono quelli più amichevoli, quelli invece che sembrano arrabbiati, ma invece hanno semplicemente sempre quell'atteggiamento dove devono mantenere le distanze. Ecco, non sempre bisogna utilizzare tecniche allo stesso modo, ma adattarle del cliente in cliente. Un altro momento in cui si può utilizzare questa tecnica è il ridosso di un evento. Non dovete sottovalutare la vostra clientela locale. Magari nel vostro hotel si organizzano dei ricevimenti, avete un battesimo serale e li potete sfruttare il fattore stanchezza. Magari queste persone abitano un po' più lontano. Alla fine del ricevimento, magari terminerà dopo la mezzanotte, dovranno poi fare anche la strada per tornare a casa. Sappiate che in quel momento potete proporle loro di una stanza, magari un last minute. Li fate uno sconto di guardo perché comunque hanno anche prenotato l'evento. In questo modo avete venduto un'altra stanza puntando sul fattore stanchezza. Quindi con quali mezzi possiamo utilizzare queste tecniche? Abbiamo detto il booking engine, le app personalizzate, le email o di persona. Le possibilità sono davvero tante. Devi trovare quella che è più adatta alla tua clientela. Cosa puoi offrire ai tuoi clienti? Come dicevo all'inizio del video, questo lo sai solamente tu perché tu sai cosa è incluso o non è incluso nel tuo hotel. E poi cosa possono volere i tuoi clienti. Però ti voglio dare delle idee. Ad esempio puoi offrire un upgrade di camera, un late check out, un early check in. Però mi raccomando, non offrite questi servizi a casaccio. Se non ve lo potete permettere perché avete i tempi stretti, non lo fate semplicemente. Simenti vi troverete semplicemente con clienti incazzati e non va bene. La mezza pensione, fiori, vino, la colazione oppure la colazione in camera, il servizio in camera. Una torta, magari avete già le date di nascita dei clienti e quindi vi rendete conto che qualcuno compierà il compleanno durante il soggiorno. Ci sono tantissimi che per i compleanni effettuano un viaggio invece di fare la festa. Si può proporre una degustazione di prodotti tipici durante il momento dell'aperitivo, in modo tale da non perdere anche la possibilità di farli restare a cena. Transfer, noleggi di biciclette, ingressi alla spa, escursioni, biglietti di spettacoli. Le possibilità sono davvero infinite. Guardatevi intorno, vedete che cosa potete vendere, fate convenzioni con altre attività nella vostra area, in modo tale che nel momento in cui proponete questi servizi, riuscite comunque a ottenerne un ritorno. Anche perché poi nel momento in cui il cliente è già in struttura, più si riesce a consolidare il rapporto con questo cliente, più è facile vendergli qualcosa. Quante volte è capitato che nonostante abbiate una reception che veramente funzioni perfettamente, ci sono i clienti che vogliono parlare per forza con quella persona. Perché magari è quella che gli ha fatto il check-in e si sono trovati bene e vogliono parlare con lui o con lei. In quel momento si è creato un rapporto, quindi la parola di quel receptionist avrà una valenza maggiore rispetto a quella dei colleghi e riuscirà a vendere anche qualcosa in più. La mente dei clienti è strana, lo sappiamo benissimo, ed è importante anche saperla gestire. Però l'importante è la chiarezza in tutto e per tutto. Ovvero non si deve lasciare sottointendere i costi o quant'altro, ma deve essere assolutamente chiaro, perché poi a fine soggiorno una sorpresa non la vuole nessuno. O soprattutto ci sono anche i furbetti, quindi quelli che dicono «No, ma io non ho capito, non mi è stato detto» e quant'altro. Quindi magari alla fine ti ritrovi con un cliente arrabbiato e ti toccherà anche stornare quell'importo. Quindi magari il soggiorno è stato fantastico, il cliente era felice ma se n'è andato nervoso. E quindi quel cliente magari non lo recuperi più perché avrà avuto la sensazione, furbetti a parte, che tu abbia tentato di fregarlo. Quindi mi raccomando, sempre chiarezza. Ora prova a mettere in pratica questi suggerimenti nel tuo hotel oppure fammi sapere nei commenti già come li sfrutti. Come sempre ti invito a mettere mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Besos!